L'ennesimo tentativo di furto di rame ha mietuto questa volta una vittima. Si tratta di Daniel Kostantin Cervinsky, rumeno di 26 anni, rimasto folgorato mentre cercava di trafugare delle piastre in rame. Il corpo senza vita del giovane è stato scoperto casualmente da alcuni operai in località Paradiso Selvaggio, sul terrazzino di un gabbiotto costruito in adiecenza di una cabina elettrica. Sul posto si sono recati i militari dell'attenenza dei carabinieri di Vieste, una squadra di elettricisti dell'Enel e il medico legale che ne ha constatato il decesso. Il corpo del Cervinsky presenta la bugiatura in vari punti, a conferma che la causa del decesso è la folgorazione della scarica elettrica. La salme sarà trasferita presso l'obitorio del cimitero di Vieste dove nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia. L'incidente mortale segue di poche ore il ritrovamento di rame rubato a bordo di autoveicoli a Peschici e a Manfredonia.